Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Terratech Prima di cominciare vi ricordo che in descrizione come sempre trovate il link per comprare il gioco a un prezzo scontatissimo E anche per partecipare al giveaway mensile Approfittatene perché non penso di poterlo fare ogni mese E quindi beh, finché c'è, giustamente, provate a vincere un gioco gratis Detto questo, l'ultima volta ci siamo lasciati che stavo facendo una missione che insegnava qualcosa sull'antigravità Robesimili, ma il tech che dovevo comprare da lui costava 100.000 Quindi oggi andremo a fare soldini Anzi, soldoni Già che ci sono, c'è anche un'altra missione qua Direi che potremo prima fare questa a due chilometri E poi provare a fare una base per farmare un po' Quindi intanto mi dirigo verso la missione che è là giù in fondo E comunque ne approfitto perché da questo bioma qui mi vorrei allontanare Cioè, semplicemente di fare una base sul ghiaccio Boh, non lo so, non mi ispira tantissimo Quindi più che volentieri mi allontano Cos'è sto bioma? Ho anche fatto un achievement Ah, sì, me lo ricordo Cioè, me l'avete accennato voi Che ci sono questi materiali qui Che dovrebbero essere super mega costosi Ma... sul serio? Però sotto non c'è esatto Sotto non c'è l'aggeggino Facciamo così Mi metto un po' di piastre traenti intorno E così mi porto i materiali dietro E boh, alla prima base giustamente li vendo Anzi, è qua dietro Quindi in verità abbiamo già fatto Però non so per quale motivo Me li ha messi al contrario Forse c'è proprio il blocco invertito lì Strano Pronto anche questo E andiamo subito a vedere se ne vale la pena Certo, non sono processati Però se già li vende Ha 150 Eh sì, appunto 160 Quindi processati Possono costare un pochettino Ora il 6 che sta venendo Probabilmente era la legna che era lì Raga, è interessante Solo che farmarli È decisamente una rottura Perché alla fine Noi possiamo fare una base Che può produrre Tanti e tanti soldi In modo fisso Senza per forza Dover andare noi a raccattare le cose E siccome qua sotto Non ci sono le venuzze Non è farmabile con le miniere Cosa che probabilmente Noi oggi andremo a fare Qui cosa fanno questi due Ehm Ci penso io a risolvere i vostri problemi Ok Ah ma era qua dietro Io pensavo fosse in fondo Chissà dove Già di ritorno Ehm Insomma È passato qualche giorno Non vorrei dire che è passato qualche giorno Comunque Per fortuna Non è notte Posso già cambiare il mio tech Quindi carica tech E sì ragazzi Tra i salvataggi Vedete qualche tech come particolare In multiplayer Stiamo facendo delle cose Veramente Veramente lezzissime Che prima o poi faremo anche in single player Però ci vorrà un pochettino più tech Comunque Prendiamolo Raga Avanzato dell'allenamento di fluttuazione In teoria Gli allenamenti non hanno tempo Quindi proprio freghiamocene Cerchiamo di farlo con tutta la tranquillità del mondo Che siccome l'altra volta Qualche curvettina E abbiamo fatto Magari sollevandoci anche Sembrano bassi Ma non lo sono Cioè guardate Quello è già il traguardo Quello è già il traguardo Ma di che stiamo parlando? Questo dovrebbe essere il percorso avanzato Ma seriamente? Boh Prendiamo lo scu device E mentre andiamo qui ad aprirlo Già posizioniamolo per terra Vedo tutte schifezze Questo cos'è? Un cannone di consegna mobile Molto molto carino Ragazzi I blocchi mobili Non hanno ovviamente Il bisogno di essere ancorati a terra Per funzionare Quindi il cannone di consegna Posso fare che Mentre vado a giro Spacco i blocchi E quelli che spacco Appunto Vado instant a vendere Senza dovermi ancorare O dover fare ogni volta una base Molto carino Se dovessi fare Un tech base mobile Come ai tempi Si facevano con Urca miseria No 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 Via 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 Oh Ma raga Questo mi fa male Se mi becca Però non mi becca Perché è sponato così grosso? Ho un tech schifosissimo E il problema del mio tech Ragazzi È che non ha il turbo Cioè se deve scappare Come vedete Se la cava abbastanza bene Aio Però non avendo una grande velocità Si rischia tantissimo Qua abbiamo la stazione di prima Vediamo se da altre missioni Sì Avanzato Anche questo qui 3 km E gruppo di razziatori Ragazzi Quelli avanzati Sono sempre la stessa cosa Scammissima Quindi accetto razziatori Che spero 160 metri Ok là sopra Meno male Non ci siamo proprio dentro E invece sì E invece sì Non ci credo Ragazzi Lo perdo Lo perdo Lo perdo Lo perdo Ho perso un pezzo Mi sono sponati dietro Ragazzi Lo sapevo Che era troppo vicina Lo sapevo Chissà cosa mi hanno fatto esplodere Penso sia una specie di computer di bordo Oh Se devo dirlo Vola lo stesso Però se devo farlo responare Poi Potrebbe mancarmi quel pezzo Sapete che vi dico Chi se ne frega Carichiamo il mio tech originale Diamogli un po' di corrente E poi si va ad affrontare i tipi là Che cavolo ragazzi Mi sono sponati addosso Però Ma che sfiga Pensavo fossero quelli davanti E invece erano quelli Eh no Quello davanti Ragazzi era la missione Che mi è rimasta L'altra memorizzata È certo Infatti loro Sono lì bellini bellini C'è da dire che Se io gli tiro un po' di razzi Magari Crollano subito a terra Prendo tutti i loro blocchi Magari hanno direttamente il blocco Che mi serve Che poi in verità ho già Perché posso Posso metterlo Quindi vuol dire che non mi manca nessun blocco Sì li ho tutti Guardate Dai non mi vado a fullare l'energia Tanto li attacco dalla distanza Che mi frega Però qui ci sono anche altri ospiti Eh quindi poco a poco Facciamo fuori quelli della Geocorp E poi altri Cavolo perché è così resistente Vabbè si è un po' smontato Facciamo fuori anche quello Ottimo Eh senti bro Vedo che tu hai delle batterie Quindi quasi quasi No no Ma l'ha mirato il laser Mamma mia ragazzi Laser più inutile del mondo Ma signori Guardate qua Generatore geotermico E la batteria effettivamente l'abbiamo ricevuta Poteva andare meglio Ma non è fatto male Ora come elimino quelli laggiù in fondo Mi ci avvicino poco a poco Vado su questa montagnetta Ne prendo uno di mira Magari questo qua che è il più vicino Ma non ci riesco Beh se va male mi allontano velocemente Ok preso di mira Cerchiamo Uuuuh ragazzi ai razzi Ai razzi Che mi piacerebbe avere Si è chiaro Ma sono più interessato a non crepare Che avere i razzi Ok l'ha rilanciati Aio 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 Mi curo qua dietro E ragazzi ormai l'ho L'ho killato Vediamo se riesco ad avvistare Tanto quello non mi può più fare male No vedo Dei robi per spostarmi E basta E nulla l'ho fatto esplodere Tanto le cose più carine Le ho spostate E lui Sbam Propulsore di assestamento Si confermo Purtroppo Niente i razzettini Qua tutto intero Si beh lo scudo ha funzionato Potrebbero averli anche gli altri Ora quale sarà la base C'è una base No sono razziatori Quindi sono tutti quanti da killare Sta attaccando Ma non me Sta attaccando quelli laggiù in fondo No Quello era quasi a tiro Però una ha tutti i laser E l'altro le torrette Quindi sono armi abbastanza scam E soprattutto non ce l'hanno con me Non è nemmeno partita la musichetta ragazzi Proprio Ok ora si Totalmente disinteressati Diamo qualche colpa a quest'altro Che ci sono autodistrutti I scudi e tutto Ragazzi non so che dire Veramente Non so che dire Fatto esplodere brutalmente E quello dietro È rimasto ancora tolà Sapete che vi dico Prima ha accato tutti i pezzettini Anche se realmente Raga Non c'è un gran kill Questo invece quanto è grande Raga Cioè occupa Raccatta più roba Fatemi un attimo vedere Sì Raccatta tutto questo Ottimo Allora non uso più quello Della GSO Cioè ce l'ho da molto eh Ma lo sta trivellando l'altro Ma come ti permetti È mio È mio Però vedete Ha Un po' di laseroni sopra Se riesco a non farli esplodere Ok Ottimo Ce l'ho fatta Cioè Non tutti Parzialmente Uno sono sicuro di averlo salvato Vediamo anche qui cosa esce Cos'è sto blocco gigante Una raffineria Mentre questo piccolino qui Bah insomma Nulla di che Che poi in verità Potrei tranquillamente Fare i soldi che mi mancano Con le missioni Ma l'avevo promesso Oggi Si deve fare una base Assolutamente Almeno me la salvo E la utilizzeremo anche in futuro Però Veramente Ci sono lezzi ovunque Allora Per la base Ho bisogno Di un boschetto Sì Sembra strano Ma mi serve un boschetto Quindi Vedo che c'è una radura di qui E anche una radura Un pochettino più a nord Opterei per quella nord Quindi Da questa parte Il motivo è molto semplice In questa zona Si trovano Dei cristalli verdi Che sono Uno dei materiali Più cosi del gioco E tra l'altro Se ne possono trovare Veramente Due Tre Anche quattro In certi casi Venuzze accanto E nulla Se ci mettiamo un estrattore Ovviamente Estrariamo tutte le risorse interessanti Ci sono anche queste qua gialle Ma non pagano abbastanza Eccoli lì Si avvistano Devo solo cercare un punto In cui ce ne sta più di uno Ovviamente Messo insieme Lo so che ce n'è uno qui E uno molto più avanti E anche uno qua accanto Uh Guardate qui Guardate qui Ne abbiamo tre insieme È il punto perfetto Tecnicamente Ora se vado a trivellare Tutto così Senza trivelle Guardate Rimane il blocchettino sotto E questa roba qui Posso andare ovviamente A estrarla Ora di estrattore Ho soltanto Uno di questi Il che Ve lo devo dire Non è una cosa bellissima Però ho fatto l'esperienza Al massimo Della geocorp Quindi se va bene Ho il terminale Della geocorp Esatto Esatto Raga spendiamo Un pochettino di soldi Oggi mi sa Sì sì Sia per fare la base Che dopo per il tec Perché ve lo assicuro Lo faremo oggi Quindi Il terminale mi sblocca Tutti gli oggetti Che posso comprare E vado a scrivere Estrattore Forse non lo trovavo Perché non si chiama estrattore Oh ma l'avevo visto È questo Minatore Automatizzato Pesante E se già ce l'avessi Ma non l'ho cercato così Esatto Uno c'era già Quindi stando Un minimo Attenti a dove punta L'uscita Si vanno a mettere Giustamente il primo Deve essere un fail Ovviamente Così va bene E poi ne compro altri due 5000 all'uno Non troppissimo E l'altro ovviamente Da questo lato Ora questi cosettini qui Mentre io sto parlando Già stanno producendo E stanno buttando fuori Le robettine La linetta che si vede qui Rossa e verde E quanti materiali Rimangono sotto terra Noi ora Vogliamo intanto Raccattare tutti questi materiali E seconda cosa Andarli ovviamente A vendere Ma prima Cerchiamo di ottimizzare tutto E raffinare la merce Abbiamo già una raffineria Della Geo Corporation Ne abbiamo anche una della UK E una di quest'altro Boh io potenzialmente Potrei anche usare queste Ovviamente servono anche I nastri trasportatori E già che ci sono sotto Metto un ancoraggio Perché questo coso qui Dopo lo voglio spostare L'ho messo un po' malino Infine mettiamo anche La piazza traente E così almeno Raccatta tutte le cosettine Allora già così Dovrebbe andare Ovviamente Non mi fa impazzire Come è messo Prima cosa Perché le riprende Da qua le risorse Ma non le prende Dall'altro lato Quindi ora Andiamo subitissimo A rimediare E metto anche un'altra piazza Da quest'altro lato Perché se no le cose qui Non le raccatta Ora che ho fatto sto mega schifo Posso fare la zona Per appunto andare a raffinare tutto Quindi la metto Un pochettino a caso così Il punto è Uso tutte le raffinerie diverse Oppure no Quanto costa una raffineria? 600 Raga ma le compro tutte uguali Chi se ne frega va? Cioè devo stare a fare Il taccagno Veramente Costassero tanto Ok Entrano nella zona verde Ed escono dalla rossa Qui è giusto Di là è un po' il contrario Potenzialmente va comunque bene Cioè anche la mettessi qua L'importante è che funzioni No? Allunghiamo tutto In caso servissero altri upgrade Ovviamente E vediamo se riesce a stargli dietro Se no mi tocca aggiungerne altri Sì Sembrerebbe di sì Ora Un cannone da consegne È verità più di uno Quanti ne abbiamo? Ne abbiamo otto di questi E... Questo qua Cos'è? Gigante? Proviamolo Dove va la roba? Sì nel posto sbagliato Perfetto Però guardate che bellino Ha due uscite Quindi è molto molto buono Ne metto uno di qui E uno dall'altro lato Così conta come un quadruplo cannone Volendo potrei metterlo anche di qua e di là Però ragazzi Ce la facciamo Sta vendendo a rafficatutto Tra l'altro Questo qui Non lo sta facendo Ma perché? Perché è arrivato in fondo E in fondo non c'è nulla che vende Esatto Ovviamente non si deve incasinare in questo modo Andiamo gliene a mettere Boh Uno semplice messo così a caso Per la roba che dovesse arrivare in fondo C'è un problema come vedete La roba raffinata Non sta andando da nessuna parte Questo perché come sempre Monta di più quella non raffinata Che quella raffinata Ragazzi Servono molti più cosi per labrare tutto E soprattutto mi servirebbe qualcosa Per lo stoccaggio Ce l'abbiamo? Non penso Un altro po' di raffinerie Non ci fanno schifo però Allora raga Devo metterle anche da quest'altro lato So che è una cosa orribile da vedere Quella che sto facendo Probabilmente è pure fatta male Ma almeno funziona Dai A sto giro forse ci siamo Se ne trova una libera Ci finisce dentro E dovrebbe cuocere tutto Devo ovviamente velocizzare la vendita Come prima Quindi rimetto questi E a sto giro sta andando C'è giusto un po' di roba qui Che è rimasta incastata Ma penso perché all'inizio L'ha sputata veramente Molto molto a caso Perché ce n'era veramente troppa E quindi L'avrà L'avrà spinta fuori range Alcune cose ancora Non vengono cotte raga Ma probabilmente perché È tutto intasato Infatti Guardate Questi due cosettini qui Che sono in due a produrre Cioè non è che Lo stanno intasando È proprio la roba che era per terra Ha rotto tutto Ma in teoria Su come finisce tutta la robaccia Se va bene Parte E funziona bene Stiamo a vedere Beh direi che è una meraviglia E funziona benissimo Ora che non c'è più robaccia a giro Guardate Tutta la roba cotta Va via Stanno ancora aspettando Il loro turno Ma su come finisce Questa ultima ondata Di materiali Avrà a disposizione Ogni raffineria Che praticamente Rimarrà libera Infatti i ragazzi Ne ho messo veramente un casino Non ce ne servono così tante E signori 99.000 E anche 100.000 Incredibile Siamo arrivati a 100.000 Quindi potenzialmente Già l'obiettivo sarebbe completato Eh Potrei andare di là E comprarmi il tech Che mi spiega un pochettino Come funziona l'antigravità Ma noi veramente Ci accontentiamo di questo Assolutamente No Voglio fare più soldi Tra l'altro Qua vicino C'è una base BB Se mentre mi allontano Nessuno me l'attacca Questa cosa qui A parte che Con quello che abbiamo fatto La possiamo anche ricostruire Potrei andare a vedere Se vendono una cosa di carino In passato Volevo comprare le armi Quelle dell'Aventure Però appunto Non le avevano Perché le avevano finite Magari a sto giro Le hanno di nuovo E sto parlando dei miei razzi Che purtroppo Ho perso in un modo Che nemmeno mi ricordo Ma forse è meglio così Tendo a eliminare i traumi Esploriamo anche un po' la zona va Allora intanto Missioni Non ci interessano E nello shop Armi Mamma mia Che schifo Che schifo Ma seriamente A sti livelli Almeno qualche razzo recente Motore a reazione piccolo Abbiamo di nuovo questi doppi 9.000 costano Eeeh Cioè No Veramente no Un po' troppo Vabbè Come non detto Torniamo a casa Casa poi Ma seriamente L'ho chiamata casa Con che coraggio Guardate che bellina Come funziona bene ora Potrei anche mettere I sistemi di difesa E altro Però Sinceramente Non sono interessato Penso che me ne starò un pochettino qui Non dico FK Ma quasi A farmare Per una base completamente funzionante Queste 4 raffinerie Bastano e avanzano Per fare tutto Effettivamente si Avevo decisamente esagerato prima Però capitemi Era tutto completamente intasato Signori 163.000 BB Il costo di questa base È irrisorio L'ho salvata Ma non l'andrò a distruggere Per poi riposizionarne In caso ci dovesse servire L'andrò direttamente A lasciare in questo posto Sperando che nessun tech nemico Me la vada completamente A zintegrare Sì Potenzialmente È una cagata Anche perché Ci troviamo Un po' distanti Dove dobbiamo andare Un chilometro e quattro Tecnicamente Sono lontano Non mi vanno ad attaccare Questa cosa qui Però ripeto Se me la distruggono Che quanto ci perdo 15.000 di queste Le raffinerie Ne ho quante ne voglio Queste qui infinite Cannoni al massimo Ci perdo Poco importa Ovviamente Non lo faccio Sperando che allontanando Mi possa continuare a funzionare So già che smetterà di andare Però raga Pace Detto questo Andiamo verso la missione Ok da questo momento Non sta più producendo Quindi vuol dire che sono Troppo lontano Ma in teoria sono lontano E appunto non viene caricata E di conseguenza Ripeto Nemmeno i nemici Dovrebbero caricarla E quindi attaccarla Boh sperami bene Comunque ricordiamoci Sta qui C'è la base C'è il cerchietto esplorato E ci sono tutti i puntini Che ci dicono Raffineria 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 Ah ma siamo già arrivati poi Ma sapete che vi dico Qua dietro c'era l'altra base BB Ecco vado a vedere anche lì Se vendono qualche arma Perché Mi avete detto che sì La notte Cioè al mattino Si resettano tutti Ma che effettivamente Cambiano da Stazione di scambio A stazioni di scambio Cioè in una possono avere delle cose In altra appunto altre Quindi magari qua se va bene Ho delle armi interessanti La risposta è sì Ho delle armi interessanti Ma no Non quelle che voglio Qua abbiamo al massimo I lanciamissili a grappolo Però Quelli a grappolo Non vanno bene ovviamente Non per noi Sta anche per fare notte Ui C'è un nemico lì Ok quindi Tra un po' ragazzi Dobbiamo ovviamente Cambiare tech Non avremo batterie In caso dovessimo Fare spawnare il nostro E se si mette male Pace Ma ragazzi Guardate che bello Due mega taniche giganti Con due mega razzi giganti GSO Ecco i razzi giganti Sinceramente Non mi fanno impazzire Ma le mega taniche sì Io le ho comprate Le mie Anzi in verità no Però se dovessi comprarle Costano parecchio Alla fine sono più contento Di queste cose Che trovo così Totalmente a caso Piuttosto che delle ricompense Che ci danno le missioni Quelle sono molto molto tristi Comunque Via tutto Clicchiamo qua Diamo gli questi Benetti 100.000 Mamma mia Tu sei un folle Sei completamente un folle Me lo fai arrivare Ok Che cosa strana Sembra una mongolfiera Vabbè usiamolo Prima cosa da fare Ovviamente Tirare subito via Il mio tech Cosa importantissima Salvare questo qua Così Se lo rompo Al massimo Me lo rifaccio io Non lo compro a 100.000 Che è pura follia E lo chiama Bubblecraft MK2 Come funziona Ok così vado su Così vado giù In modo inclinato Mi giro su me stesso Vado avanti Indietro Insomma molto molto a caso Cioè Ehm Non schifo Ah perché giustamente Lui Non ha nessun motivo Per stare in aria Però è totalmente dentro La bolla antigravità Che non so quale sia E non so come farvele vedere Però c'è tipo una bolla Che ha un certo range E quindi lui in questo momento Pesa a zero E tutti questi cosettini qui Sono aggigini Che danno pochissima spinta Però siccome La danno a un oggetto Che non ha peso Sostanzialmente Si muove Giusto Il problema è che ci manca il radar Però vabbè dai Chi se ne frega Allora mi allontano E facciamo Sottracciato Dai Però Gira troppo su se stesso Però E non capisco quale sia il davanti Aiuto Per quale motivo Quello è il davanti Sinceramente non lo so Però Si può fare Dimmi che non è a tempo Ok non è a tempo Perché è partita la musichetta Però sia per la missione E non perché c'è un nemico Perché raga Io qua Ma dai Ma che giri sono questi Ma dimmelo Che è il davanti Quello raga È fatto malissimo È fatto malissimo Sto coso Ma poi Non gira Cioè gira troppo Ma non va avanti Cioè È un disastro 100.000 per questo Certo che io in passato Ho provato a fare i tech volanti E non ci sono riuscito Perché pesavano troppo In questo caso In questo caso C'ho l'antigravità Ok fatto Però signori miei È notte Che faccio Prendo il mio tech Eh sì dai Prendiamolo al massimo Se c'è qualche nemico Lo schifo di cattiveria Oh era rimasto con un minimo di batteria Ma lo posso ancorare Ti prego dimmi che c'è Sì C'è ancora un minimo di sole Cosa abbiamo qua Laser D'assalto Questo qui è un coso ionico Suppongo La fabbrica E un pannello solare Questo è molto molto coloso Peccato che Avendone su tanto uno Non ci faccio un granché Vabbè poco a poco Si sblocca tutto comunque Anche se è pericoloso Me ne rivado verso La mia vecchia base Le prossime missioni Voglio farle lì ragazzi Qua vicino al ghiaccio Sinceramente Mamma mia C'ho i brividi Mentre si aspetta Che faccia giorno Farmiamo un altro po' Il sole è appena sorto Mi sono già caricato Le batterie Quindi Ne approfitto Per fare un giretto Tra l'altro ragazzi 98.000 99 E siamo i nuovi vicini Ai 100.000 Che sicuramente Andremo a raggiungere Nei prossimi secondi Quindi ottimo Mi mancano tre nemici Da killare E faccio anche un'altra missione Quindi ragazzi Ce n'era uno qui E due là vicino Io quasi quasi Faccio esplodere un po' di gente Intorno alla mia base Sperando che non siano troppo forti E no vabbè Dai È fattibile Se non si killano tra di loro Poi è anche meglio Pensavo fossero amici Invece niente E ragazzi Appena fatta Appena fatta Ottimo Cosa ci dai Un po' di armi I mega cannoni Buoni questi Però non penso di averne altri E un cannone da consegna Fisso Ce li ho gli altri Mortai giganti Qua? No Soltanto uno E che cavolo Tutto A due passi Ma tra l'altro Dovrei anche Vedere Di cadere Perché erano proprio qua vicino Ah Eccoli là Eccoli là Ma quelli chi sono? Penso i teppisti Esatto Ragazzi bisogna stare molto attenti Ora quello lì è un mix E mi sembra fare abbastanza schifo Però in genere Quelli del low key Sono abbastanza tosti Quindi stiamo super attenti A parte che se questo si avvicina Penso mi vada un pochettino A tagliuzzare tutto Questo Ha un'arma strana Ma non dovrebbe essere Troppo potente Infatti non mi ha fatto quasi nulla Ottimo E poi ne abbiamo altri due Potrebbero preoccuparmi No Ok Piccolino anche questo Bello querazzato Ma piccolino Ha gli shotgun addosso Quindi basta non farlo avvicinare Questo cos'è? Ah il cannoncino piccolino Vediamo un po' l'ultimo Ah l'ultimo Non aveva le ruote ragazzi Ma le batterie Ah io Ma mi hanno fatto male Raga non pensavo Ah di certo non sarà quello Senza ruote a killarmi Quindi La missione ormai si è fatta Già che ci sono Mi ancoro direttamente qua E mi ricarico anche le batterie A posto Che ci dai? Ehm Forse questo è buono Raffineria Una ruota un po' particolare E mamma mia ragazzi Ok Non vedevo dove ritrovarli Questi qui Attualmente Sono i razzi POP che ho Sono veramente buoni Lo sono sempre usati Anche nella vecchia stagione di Terratech Ecco In questa stagione qui Abbiamo dei razzi POP Però comunque Questi sono buonissimi Attualmente Peccato come al solito Averne solo uno L'altra missione poi È 700 metri Ragazzi ti blocchi Oh Boh Li lascio qua Però un giorno li comperò Perché mi servono Ho capito dai Facciamo che non li lascio qua Chi è che mi attacca? Oh Ma come ti permetti? Via via E non rompere più Che è una bella scorta Di blocchettini È sempre buona cosa Non è che costino molto Però veramente Dà fastidio poi Non averli In caso servissero Qua abbiamo un Elimina la banda Del tech nemico Come questa circa E questi però Sono pienissimi Di armi E fanno molto più male Ragazzi eh No 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 Io già lo so Come va a finire Io già lo so Io già lo so Io già lo so Meno male ragazzi Una tacca Una tacca Se non mi fosse girato In tempo Mamma mia Ci sarei crepato tantissimo Ma 100% Basta essere distratti Un attimo di più O dire Ci provo Un secondo in più A sparare Rimanevo subito Senza scudi Il tempo di girarmi Che esponevo le taniche Qui esplodevo Istante Perdevo il tech Ragazzi Stiamo super attenti Ok che siamo forti Siamo OP e tutto Ma ci sono tech Molto più OP Dei nostri Soprattutto se fanno Un gruppetto E sono in quattro Comunque Ho un grave problema Di batterie Cioè tre batterie grandi Non mi bastano E il fatto è che Ne ho altre volendo E non so nemmeno Perché non ne abbia messo Un'altra qui Cioè lo spazio ce l'ho Ma ne ho quattro di questi Addirittura uno Della OK Ma raga Ma chi me lo fa fare Allora Ma chi me lo fa fare Veramente Di rischiare così Per cosa Per nulla Perché veramente Questo è rischiare per nulla Metto la OK Lì dietro Questa la infido qui E poi c'è un altro spazio Per mettere questa così Magari anche colorata Perché se no No grazie E abbiamo già aggiunto Un po' di batterie extra Poi sì ecco Lo posso decisamente Sistemare meglio Allora prima di tutto Eliminiamo lui Che raspa In verità andava ad attaccare Gli altri Vabbè Lo eliminavano tipo In mezzo secondo Raga prendiamo di meno Lui ha troppe armi Cioè un coso così Mi disintegra veramente Qualcosa gli sta arrivando Ma arriva Ma guardate Ma guardate raga Uh Uh Sono senza nulla Sono senza nulla Di già Incredibile Veramente Veramente incredibile Ragazzi Se mi arriva un tech Ora mi disintegra Anche quello davanti Farebbe killarmi No non è vero Non ha questi livelli Ci mancherebbe Però quasi eh Completamente a zero Non so nemmeno perché Mi sia rimasto Lo scudo attivo E la bolla riparatrice Veramente Scandaloso Ma Gli abbiamo fatto un botto Il problema di quelle armi Ragazzi Che tech come quelli Ne hanno veramente un sacco Ma un sacco un sacco E attaccano da lontanissimo Cioè è una raffica di colpi Che non si può schivare E più ti allontani Più comunque ti arriva Oltretutto il tech Quello lì dell'aventure Eppure veloce Sulla terraferma Quindi o gli distruggiamo le ruote E almeno sta distante Oppure oltretutto Abbiamo pure quel problema Ma tanto qui perché mi aumentano i soldi Siamo ancora nel range della base Eh mi sa di sì Ci manca solo che qualcuno Mi attacchi la base ora Però almeno stiamo farmando Non ne vale proprio la pena Il mio tech costa 400.000 Meglio cercare di non perdere lui Gli ho levato tutte le armi sopra E penso che sia decisamente più pericoloso Gli altri non mi fanno troppa paura Vediamo un attimino O forse non era lui Ma è istante esploso C'eva un botto di tanniche E no C'è rimasto tanto il piccolo dietro Quindi ragazzi Già fatta Ok 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 Ci eravamo quasi riusciti prima addirittura Qua per terra c'è qualche razzettino Ma principalmente spazzatura Ah no Ne è rimasto uno Qui Ah no Era lui quello forte Ragà Pazzia Però guardate È incastrato Quindi noi Ci andiamo così E lo eliminiamo No Sì I razzi ci arrivano Perfetto E chi me lo fa fare E chi me lo fa fare da andarci Mica sono scemo Ma guardate cosa gli sta arrivando addosso L'abbiamo poverino disintegrato E stava lì incastrato lui Ok missione fatta A me la cadere qui Ti prego che almeno raccatto un po' tutto insieme Perfetto Dietro Che ci dai a sto giro Eliche sempre buone E ruote Ma ruotine del cavolo Forse questa cosa è No Come sempre Più la roba interessante per terra Che dalla cassa Come ricompensa Ragà ero quasi tentato di fare come un'ultima missione Quella di prima Ma guardate qui quanta bella robettina che ci dà Allora Sti qui che siamo praticamente dietro Ah ma forse questa è quella No la base nemica è laggiù in fondo Per chi mi hai parlato qui Cosa vuoi Ah vuole che elimini questi nemici qui Mi sa Questi qua dietro Sì 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 C'è gente qua dietro Vabbè se vanno i metodi Sono due torrette In verità nulla di eccezionale Ci vado diretto Non mi serve nemmeno andare ritirata Per le batterie Almeno spero Non vorrei fare figuraccia Ti prego Killalo subito Io non torno indietro Io non torno indietro Eliminalo Eliminalo Ti supplico Ok Mamma mia ragazzi Ma perché me la devo sempre rischiare così Forse Forse era meglio non essere di parole In questi casi Cosa ci dà Blocchi giganti Penso da costruzione Ottimo Non ci penso mai che ci sono blocchi così grandi Eliche enormi Rotini Beh insomma Del bel materiale Per fare un tech gigante Ma io farò mai un tech gigante Beh magari un giorno sì Ma poco importa 800 metri Acquisisci la base nemica Ragazzi Questa Ultima missione di oggi Perché veramente Ho giocato un casino Tra il farming Fare la base Tutto Ci ho messo veramente un sacco Però devo dire redditizio Perché abbiamo speso 100.000 E ora siamo di nuovo a 170.000 Quindi ragazzi Oggi mi hanno farmato Forse ero a 70.000 inizio E abbiamo farmato circa 200.000 BB In questo episodio E secondo me Non è roba da poco Poi decisamente Lasciare la base lì a farmare Ragazzi Ne è valsa la pena Cioè mentre io ero qui A farmi tutti i cavoli mia Ho rischiato di perdere una base Da ripeto 20.000 Ma intanto Ne ho farmati un casino Quindi quella lì Deve rimanere lì A continuare a macinare soldi Mentre io faccio le missioni qui intorno Eccoci qua Oh madonna Questa è la base da conquistare Ma siamo sicuri Che quella sia una base Comunque Killiamo questo E poi siccome la base Effettivamente la voglio prendere Devo killare la torretta E non ovviamente Quel cubola gigante Che non Penso Penso che sia ragazzi Una Una base Per vendere quella Quella fatta così Vediamo un pochettino Ok E' mia E' mia Come funziona E cosa sei te Sparisci va Voglio dare una sbirciottina dentro La praticamente si Da qua prende i materiali Poi li sposta Ah è un silos Di stoccaggio Questo Però ecco non fa nulla Non è che vende Tiene solo altri materiali dentro Invece che in fuori Quindi fa tipo Un mega cubo di materiali E' una cesta ragazzi E' una cesta Veramente Tra l'altro c'è pure Il tecchino attaccato Potrei anche prendere E memorizzarla Ma io penso Che farò così Ah la magia Che bello Qua invece Che ci dai Questa roba gigante Fabrica di componenti Sono cose che Tendenzialmente ho già Ma come sempre Non ci schifa nulla Oggi mi sarebbe piaciuto Anche spendere Un pochino di soldi Per le armi e tutto Però veramente Con sta cosa Che va da giro E tutte le stazioni Di scambio Non hanno le armi Che voglio E' una delle cose Più tristi Che abbia mai visto Ragazzi Con questa missione qui Che vedo Indaga presso la fortezza Crone top Affronta il re ragno Che accetto subitissimo Ovviamente Insieme a quest'altra Vi abbandono Vi tengo un po' sulle spine Non so cosa sia Penso sia una di quelle robe Che tipo devo affrontare Una città Con le torrette Suppongo sia una di quelle cose lì E mentre appunto Sto gente parla Che tanto Non ce ne frega nulla Ragazzi Vi saluto Vi ricordo Tutti i link in descrizione E quindi Ciao a tutti Ciao a tutti